Salve a tutti ragazzi, qua siamo Briachi e adesso facciamo un ponte challenge perché ci è venuto in mente così a cazzo. Quindi facciamo un ponte e vediamo che riesce a rimanere in piedi nonostante il fatto che abbiamo bevuto tipo 4 litri di vino. Inizio io. Io l'ho fatto. Vai tu vai tu vai tu vai tu. Non ce la fai comandante. Vai 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 spingi sulle brazze, spingi sulle brazze, spingi sulle brazze, spingi sulle brazze, spingi su. Vai! Dai 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 che ce la fai? Basta! 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 Dai! Aiutati! Devi mettere le brazze così. No 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 ehi. Così è che si fai? Sì, va bene. Uuuu! Beee! Guarda le mie mani, guarda le mani come sono mezzo. Così? Bravo! Ma! Ok, io penso. Ho penso. Ho penso. Ho penso. Ho penso. Grazie a tutti.